musica mi piacerebbe finire il concetto con questa piccola canzone che è sempre una canzone ironica chi parla di gente che portano le armi a me piace cominciare la canzone come una piccola azione militare nella nostra lingua io dico iuris che è la parola che dicono soldati da noi i vostri soldati dicono all'attacco allora facciamo un piccolo all'attacco per scherzo allora sarebbe un segnale trompa allora sarebbe un segnale trattata la trattata la trattata e dico uno due tre quattro e poi all'attacco ok ma forte ok trompa uno due patro all'attacco siiii 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 che siiii siiii Grazie a tutti 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 Grazie a tutti